Io credo che il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale lo si faccia anche attraverso lo strumento giuridico, la norma penale, la norma amministrativa e fiscale. Però io credo che oggi se noi vogliamo contrastare in maniera seria il sistema elusivo presente nel nostro Paese, noi dobbiamo riportare il sistema fiscale nel nostro Paese, il sistema contributivo alla pressione fiscale, a livelli equi e giusti. Ce lo dice oggi l'Istat, la pressione fiscale in Italia è al 43,5%, lo 0,1% in più rispetto all'anno scorso, a rispetto di quello che diceva il Presidente Renzi che la pressione fiscale era diminuita. La tolta tax rate sulle nostre imprese è al 68%, c'è la possibilità di pagare meno finché paghino tutti? Sì, la proposta della Lega si chiama FLECTAT. Ne parleremo, Sardoni?